Buongiorno, oggi ci troviamo a San Giuliano Milanese nel quartiere Campo Verde. Vi proponiamo una soluzione di 80 metri quadri commerciali posto all'interno di questo stabile di solo e quattro famiglie senza spese condominiali. L'immobile si trova al primo piano ed ha un'ottima esposizione. Andiamo a visitarlo. Eccoci alla visione dell'immobile. Come vi dicevo oggi bisognava un immobile di tre locali, di una palazzina degli anni 60. Una palazzina composta solo da quattro appartamenti e non c'è l'amministratore con bassissime spese condominiali. Portoncino blindato da su questa che è la zona ingresso con questo corridoio. Alla mia sinistra abbiamo la cucina abitabile, cucina di ottima metratura. Sulla parte sinistra abbiamo la parità attrezzata, zona tavolo e dalla cucina abbiamo l'accesso al balcone. Balconcino comodo di servizio, l'esposizione è sul vialetto principale del condominio. Ci spostiamo nella zona soggiorno, un soggiorno quadrato con divano alla mia sinistra, parità attrezzata sulla mia destra. In un'eventuale ristrutturazione si può creare un ambiente unico collegando zona cucina e zona giorno. Dalla sala abbiamo l'accesso al secondo balcone. Secondo balcone dove l'esposizione è sul retro della palazzina. Nell'immobile è presente l'aria condizionata, le tapparelle sono elettriche e abbiamo l'infariate su tutte le finestre e porte finestre. Alla fine del corridoio abbiamo la zona notte, composta dalla cameretta, molto grande dove è possibile realizzare anche una camera matrimoniale. Gli spazi sono molto comodi essendo una costruzione anti 67. Bagno con vasca, in fase di ristrutturazione si può recuperare il piatto a doccia, eventualmente si può allargare anche il bagno andando a recuperare lo spazio dalle due camere della zona notte che sono molto grandi. Terminiamo con la camera matrimoniale dove abbiamo l'armadio asseante sulla mia sinistra, letto, due comodini e il cassettone. Di pertinenza all'immobile al piano terra troviamo questo spazio che principalmente negli anni 60 era un box e questo ambiente qua i signori l'hanno trasformato in piccola tavernetta dove abbiamo questo primo ambiente che è adibito al cantina e il secondo ambiente pavimentato dove abbiamo un divano. Inoltre c'è la possibilità di utilizzare il giardino condominiale che è stato diviso in quattro lotticini e abbinati ad ogni appartamento. Eccoci abbiamo terminato la visita dell'immobile, vi andiamo a riepilogare ciò che vi abbiamo presentato, un immobile di 80 metri quadri posto al primo piano senza spese condominiali. Di pertinenza abbiamo questa cantinola taverna oltre a usufruire del giardino privato come orticello. L'immobile lo troverete in pubblicità sul nostro sito www.immobiliarefreedom.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e sul canale Youtube dell'Immobiliare Freedom. Inoltre sarà presente presso le nostre sedi San Giuliano Milanese via Massimo Gorkio 8, San Donato Milanese via Morandi 23, Milano via Molino delle Armi numero 5. Vi aspettiamo di persona per visitarlo. www.immobiliarefreedom.it